Al via la 33esima edizione del Tourisport. Anche quest'anno Cagliari ospita la manifestazione che tra sabato e domenica vedrà il coinvolgimento di 60 espositori, 54 federazioni sportive, la Polizia di Stato e l'esercito italiano, per un totale di 120 operatori, i quali avranno a disposizione tra spazi esterni ed interni 25.000 metri quadrati. Si prospetta un considerevole flusso di visitatori, dato anche dal fatto che l'ingresso sarà totalmente gratuito. Tourisport 2012, quali le novità? Beh, ormai la manifestazione è collaudatissima e le novità sono queste, che hanno aderito molte altre federazioni. Mentre l'anno scorso abbiamo avuto qualche difficoltà nel coinvolgere, quest'anno è stato molto più facile. Quindi le federazioni saranno tutte presenti, gli enti di promozione, anche loro in grande numero, hanno voluto partecipare. Una novità particolare è che dentro questo contesto della Tourisport c'è un seminario organizzato dal CONI regionale, in collaborazione con la regione, che è quello dell'Ipovie. È un grande progetto dove noi stiamo cercando di coinvolgere tutti i comuni della Sardegna, perché possano dare risposte concrete a quelle che sono le sollecitazioni che arrivano un po' da tutti i turisti e da chi è interessato a queste cose qua, soprattutto quelli del mondo del cavallo, il cavallo anglo-arabo-sardo. Questa è l'iniziativa, diciamo così, clou della manifestazione. E poi coinvolgeremo tutti i ragazzi che hanno partecipato ai giochi delle isole, che hanno difeso il colore della Sardegna, domenica mattina a questo incontro, a cui verranno consegnati i DVD, i loro risultati ottenuti, e poi con una grande festa, con un bel pranzo dove i ragazzi festeggeranno il 2012 all'interno del Tourisport. Un connubio perfetto, sport e disabilità. Assolutamente sì, anche quest'anno saremo presenti qua alla Fiera Campionaria di Cagliari, al Tourisport, con le nostre società sportive. Adesso siamo arrivati quasi a 17 società, 900 atleti, 12 discipline praticate, e avremo l'opportunità qua al Tourisport di far vedere quello che le società finalmente riescono a fare, anche nel mondo della disabilità mentale. Tra sabato e domenica i vostri atleti testeranno tutte le discipline presenti al Tourisport? Assolutamente sì, dal tiro con l'arco, le bocce, la Federazione Italiana dell'Atletica Leggera, calcetto, palavolo, ma avremmo anche potuto far vedere quello che comunque sia non si può far vedere, perché non abbiamo il mare, ma abbiamo anche le canoe, quindi col team Kayak, che potranno far vedere quello che con le canoe polinesiane, per esempio, i nostri ragazzi riescono a fare.